Questa è la mia vision board e come vedete una volta quando avevo fatto questi obiettivi c'erano anche cose materiali, cose sciocche, cose stupide e vedete il mio sogno era andare in America, no? Fare recitazione, ma poi qualcosa è andato storto e adesso l'obiettivo è questo Allora se mi seguite da un po' sapete esattamente che quando sono andato a Los Angeles, quando sono andato negli Stati Uniti il mio piano era quello di lavorare nella moda là, pian piano iscrivermi a recitazione e iniziare a lavorare là quindi il piano era di andare a Los Angeles Che cosa è successo? Perché invece adesso sto cercando di andarmene in Giappone Allora diciamo che, questo è un piccolo blog in cui voglio farvi vedere quello che sta succedendo in questo periodo diciamo che principalmente gli Stati Uniti mi sono caduti un po' in basso perché quando sono tornato c'è stata la pandemia, quindi tutto quel periodo a casa io ho iniziato il mio percorso di crescita interiore, yoga, meditazione, quello di cui vi parlo sempre e mi sono accorto che quello che volevo fare nella recitazione, nella moda era solo frutto un po' di, diciamo, credenze, di traumi, di cose che avevo nel mio passato cose non vere, quindi obiettivi, basati un po' in realtà sulla ricerca di attenzioni basati su insicurezze, più su cose di cui veramente ero molto appassionato mi sono accorto infatti che la recitazione per me non era una passione, quanto pensavo era più un'idea di voler diventare famoso per qualche motivo, essere amato da tutti un po' un'insicurezza del genere, su cui ho lavorato tanto diciamo che il mio percorso interiore mi ha un po' fatto capire questo e in più cosa è successo dopo? diciamo che la cosa che ha fatto cambiare anche un po' tutto è la situazione di Los Angeles o comunque la situazione di quello che stava accadendo in America perché mentre stavo preparando il mio visto, tutto quello che volevo fare, mi sono accorto che l'America stava scendendo veramente in basso, che il mondo non era più americano centrico come una volta in cui l'intrattenimento accadeva solo lì, ma in realtà stavano uscendo film da tutte le parti del mondo, la casa di carta, quello coreano, il K-pop, c'erano i maneskin d'Italia, quindi si iniziava a vedere anche l'Europa e l'Asia che finalmente iniziavano a avere e a dire anche la loro sul mondo dell'intrattenimento, non esisteva più solo Hollywood e in più Los Angeles continuava ad aumentare sempre di più i prezzi fino a cifre assurde e sta diventando proprio una città fantasma, perché? Perché costa tantissimo, c'è tantissima competizione e i casting e le cose che accadono non sono più solo lì, ma possono accadere anche online o da qualsiasi parte, quindi è cambiato un po' questo. E quest'anno invece sono andato per la prima volta in Giappone, che è uno dei viaggi che ho sempre voluto fare, come avete visto nei vlog che ho fatto, ed è lì cambiato ancora tutto di più. Diciamo che la ragione principale è, vabbè, mi è piaciuto tantissimo il Giappone di per sé, ma Tokyo, le persone, lo stile di vita, io sono partito con aspettative altissime e le ha sorpassate. Mi è piaciuto tantissimo ed è vero, non c'è un paese perfetto, ma tutte le persone che vedo che vanno in Giappone mi dicono quando tornano che è un problema, perché vogliono tornarci subito. E non vogliono più vedere nient'altro, comunque vogliono vederlo, ma c'è il problema che vogliono tornare lì. E a me è successa la stessa cosa. E diciamo che lavorando per conto mio, perché adesso diciamo la mia entrata principale arriva dai social media, quello che posso fare è dire sai cosa, dato che non sono mai stato da solo, abito qua ancora con la mia famiglia, ho detto se devo andare a vivere in un paese per provare, invece che andare a Milano, invece che andare in posti che non mi piacciono solo per, boh, non lo so, perché non vado in un posto che mi piace. E Tokyo è perfetta perché non solo si sta bene, l'aria è pulita, c'è pienissimo di persone, succede di tutto, è sicurissimo, vai lì ed è pazzesco, ma è anche un posto dove accade di tutto, perché è un posto gigantesco. Quando sono andato là, tutto accade lì. Quindi mi è piaciuto tantissimo, quindi ho detto sai cosa, dato che è Milano, andare a vivere là per un po' e provare mi costa un tot, andare a Tokyo non è che mi costa tanto di più, anzi, e così faccio anche un'esperienza. In questo esatto momento state vedendo 88 chili e mezzo, sono partito da 91 chili circa e attualmente sono a 89 e mezzo. Diciamo che il piano è quello di tornare ad avere un bel fisico per il Giappone. Quindi quando ero ai tempi d'oro pesavo circa 85 chili. Non penso che con la massa muscolare che ho, sono 1,87, io riesca a tornare a 85 chili, però almeno da essere asciutto definito, indipendentemente dai chili, anche perché con il nuovo piano, col personal trainer nuovo, sto anche mettendo su massa muscolare. Quindi la massa muscolare pesa di più del grasso e quindi probabilmente il peso non cambierà tanto. Però diciamo che se posso arrivare intorno agli 85, 86, 87 chili, essendo bello asciutto e comunque definito con una buona massa muscolare, diciamo che il mio piano sia per me. E anche il Giappone è diventato un po' una motivazione, una scusa, in modo tale che con questo nuovo personal trainer che mi aiuta è anche un motivo per spingermi, perché è molto più semplice seguire un obiettivo se ci si pone anche dei limiti di tempo. E quindi sto provando con dieta e con allenamento. Tant'è che adesso vado in palestra. E ovviamente devo mettermi anche il profumo e sapete cosa? Mi metto questo qua, dato che siamo in tema Giappone, che è di un brand molto carino, si chiama Unique Luxury ed è Mashumaru e questo è proprio marshmallow in giapponese, quindi questo odore di marshmallow affumicato giapponese. Perché ricordate che è sempre meglio profumare che puzzare anche in palestra. Eccomi qua, ho appena finito. Allora, praticamente quello che sto andando a fare con il personal trainer, con questo nuovo piano, è per la prima volta nella mia vita concentrarmi per bene sui pesi, quindi sulla palestra. Ma non fare pesi enormi, ma partire con una scheda e farla come va fatta. Quindi invece che tre volte a settimana con altri allenamenti vari, sto facendo quattro volte a settimana, scrivendomi sempre i pesi che faccio e aumentando pian piano ogni due settimane circa i pesi, ma facendoli fatti bene. Perché il problema degli altre volte, quando lo facevo, era che per conto mio alla fine rimanevo, dato che dovevo fare in fretta palestra perché avevo da fare, senza avere un piano, senza avere diciamo un obiettivo, andava a finire che facevo quello che c'era da fare al volo, non aumentavo mai i pesi e rimanevo sempre con la stessa scheda. Invece, dandolo a qualcuno come compito, quindi delegandolo a qualcuno, un po' mi toglie il pensiero di fisico. Quindi io semplicemente ho da seguire quelle cose lì e poi ho tempo di pensare ad altro. Quindi è per quello che, nonostante io abbia fatto tantissimo tempo nuoto, so esattamente come allenarmi e mangiare, ma dopo un po' la motivazione se fai tutte le cose da solo ti mancano soprattutto se hai tante tasche durante il giorno. Quindi ho deciso di delegare tutto e sto seguendo questa dieta proprio grammo per grammo, quindi scrivendomi su Giazio, un'app per le calorie e tutto quello che faccio, con la dieta che mi dice lui. Per assurdo sto mangiando molti più carboidrati di quanto pensassi. È un test, è un mese di prova, poi vediamo pian piano come reagisce il mio corpo, poi in base a quello cambiamo. E io ho sempre evitato carboidrati, o almeno tanti carboidrati, perché pensavo fosse quella la cosa che mi facesse ingrassare, o almeno di mia esperienza era un po' quella. Invece adesso stiamo introducendoli, poi ho fatto il percorso per le verdure, quindi dieta in un certo modo e anche allenamento in un certo modo. Sto facendo quattro volte adesso palestra, quindi pesi, con questa scheda nuova. E poi sto facendo, quindi lunedì palestra, martedì palestra. Il mercoledì a casa faccio una sessione lunga di yoga, con un'oretta di Anga Mardana, che è più per le articolazioni, per muovere il corpo. E dopo che ho visto un video di Brian Johnson, in cui spiegava anche l'importanza del movimento, in cui parlava con un esperto di movimento riguardo al quanto è importante tutti i modi in cui ci si muove, anche per la longevità, quindi articolazioni, lanciare, saltare. Ci manca proprio il movimento in generale del corpo, il corpo più lo utilizzi meglio è. Diciamo che ho iniziato a fare anche tipo ballo, quindi in quel giorno lì faccio attività varia, che sia corsa, che sia ballo, che sia a casa ovviamente, che sia rifare un po' di arti marziali. Ho smesso di fare box per quest'anno perché non ha senso partire con una nuova arte marziale se poi parto a febbraio, quindi intanto vado anche senza, ma comunque faccio a casa un po' di ripetizioni, eccetera. Quindi un giorno di movimento vario. E poi palestra, palestra, giovedì e venerdì. E sabato e domenica vado in giro, faccio camminate, faccio il metodo Wim Hof più completo, faccio esercizi di respirazione, la domenica faccio addominali, quindi ogni giorno comunque qualcosa come ho sempre fatto, ma palestra è il focus. E ogni mattina comunque il mio yoga, quindi meditazione con Surya Namaskar, quindi un saluto al sole, e i 5 letti tibetani che anche quello muovere il corpo in un modo molto valido. E una volta a settimana circa faccio esercizi di respirazione un po' vari, due volte a settimana le docce fredde con il metodo Wim Hof più complesso. E una volta al mese esercizi posturali, diciamo per una mezz'oretta con un po' di Qigong, queste cose qua. Quindi questo è il mio piano di allenamento per ora. Poi sto ovviamente continuando anche con la mia routine di beauty, quindi la questione capelli, migliorare quindi i capelli, lo scalpo e anche prevenire tutta la questione dell'OPC androgenetica, eccetera, cosa di cui vi ho già parlato in altri video. E anche la pelle, quindi sto migliorando, adesso vedete questi segni rossi, perché sono andato un po' di tempo fa, li ho fatto vedere in alcuni video su Instagram, a fare ancora l'ultima saluta di laser frazionato ablativo per la cicatrice dell'acne, così da avere anche la faccia più pulita. Quindi quelle due e tre cose da perfezionare. Continuo ovviamente con la mia skin care, continuo con i prodotti, dolce fredde, continuo con le solite cose e cercando sempre di migliorare pian piano. E quindi diciamo che ho iniziato questo percorso per prepararmi ad andare, a tornare in Giappone. Molto probabilmente sarà fine febbraio 2025, quindi non manca tantissimo. Perché fine febbraio? Perché c'è l'Exans a febbraio, quindi la fiera dei profumi, e quindi subito dopo la fiera dopo per un periodo non accade molto in realtà, e quindi diciamo che il piano è andarci in quel momento lì. È abbastanza lontano, è passato circa un anno dall'ultima volta che ci vado e ho anche tempo per prepararmi. Quindi ho iniziato adesso, sto iniziando tutto questo percorso di preparazione per andare là nel migliore dei modi. Dato che quando sono andato là ho dei miei amici, comunque che ho conosciuto là, che ho conosciuto a Mr. World, Kenta, Mr. World Giappone, ma anche dei miei amici nello yoga, che abitano proprio là e lavorano nella recitazione, lavorano nella moda come modelli, mi hanno spiegato che noi occidentali come modelli possiamo lavorare là, tranquillamente. E quindi non avevo messo in considerazione l'opportunità di andare là e potersi fare il mio lavoro ovviamente online di social media, ma allo stesso tempo dire, ma sai cosa, posso anche guadagnarmi qualcosa di extra uscendo di casa e facendo anche magari qualcosa che mi diverte. Quindi ad esempio tornare a fare qualcosa nella moda, come modello, come comparsa, come attore. Ma in quel caso lì mi servono delle cose extra e quindi questa cosa mi ha motivato. Adesso sto iniziando a fare tutto un percorso con delle agenzie, con questo mio amico che mi aiuta per cercare di ottenere il visto e andare là con un visto artistico di tre mesi inizialmente per vedere e di fare qualche lavoretto là. Cosa mi serve per questa cosa quindi? Voglio lavorare ovviamente sul giapponese che sto imparando e adesso vi faccio vedere come. Quello che vado a fare di giapponese è praticamente diviso in quattro parti durante la giornata. La prima, ve l'ho già detto, è fare degli esercizi su Duolingo. Quindi mi metto lì e faccio semplicemente gli esercizi su Duolingo una volta al giorno per mantenere lo strike che attualmente è intorno ai 400. Poi c'è un corso che è Japanese Pod 101 e sto andando avanti, diciamo sono al corso uno ti dà una cosa d'ascolto. Ecco è più una cosa d'ascolto, poi ci sono parti grammaticali, lo ascolto mentre la mattina mi faccio i pancake proteici e diciamo che è una cosa per imparare i vocaboli, qualche parola eccetera. Dopo ovviamente come prima fase, come vi ho già detto, imparare katakana e iragana. Quindi quello che sto facendo è qua con Duolingo e con questo sito imparare diciamo vocaboli, modi di dire, anche la questione della cultura, c'erano anche tutte lezioni sulla cultura del Giappone eccetera. Per la parte grammaticale invece c'è questa che è la grammatica di Kim, Tai Kim e c'è tutta la grammatica, quindi eccola qua, e sto facendo una lezioncina alla volta, quindi qualsiasi cosa. Sono arrivato adesso a il contare le cose, quindi mettere le cose che contano, ad esempio i soldi, i mesi, eccetera eccetera, e ti ha dei dialoghi con anche dei vocaboli, quindi riesco anche pian piano a imparare a leggere, diciamo una pratica anche per leggere, quindi questo è per l'ascolto, Duolingo ti fa ogni tanto anche parlare, e questo è per leggere e per la grammatica. E poi invece Anki, che è quello che mi hanno consigliato tutti, dove mi sono inserito un deck, che è questo qui, Kaishi 1.5k, dove ci sono le 1500 parole diciamo più utilizzate in Giappone. Quindi diciamo che invece che imparare tutti i kanji, ho imparato qualche radicale, ma invece che imparare i kanji a sé, che non ha molto senso perché ogni kanji si legge in modo diverso in base alla vocabolo, eccetera, imparo direttamente il vocabolo. Quindi ci sono all'interno, se io faccio ad esempio oggi, aumentiamo di uno per farvi vedere, praticamente è questo, faccio study now, è questa cosa che vi dà da una parte, diciamo, il vocabolo. Un esempio in cui è inserito, quindi sia un esempio di memoria e anche di lettura. Quando lo sai, fai show answer, e quindi ti dà l'esempio subete, all entirely, quindi tutto. Lo potete riascoltare e poi qua metti, again, hard, good or easy, in base a quanto è stato facile ricordartelo e in base a quello praticamente te lo ripropone ogni tot. Quindi questo per i vocaboli, uno per la tematica, quello per l'ascolto. Poi, come vi ho detto, il weekend, o comunque ogni tanto anche anime, me li ascolto, la musica per l'ascolto, quindi cerco di immergermi anche in quello. E ultimamente ho fatto anche l'abbonamento a ChatGPT, l'ultimo uscito, quello in cui c'è la versione avanzata per parlare, diciamo, in modo complesso. E con quello sto anche facendo pratica di parlato. Quindi diciamo che sto cercando di inserirmi il più possibile in questa cosa. Ma sto anche lavorando sul fisico, perché se voglio andare là, voglio tornarci con un bel fisico. E diciamo che non ho mai avuto un obiettivo recentemente, dopo gli ultimi concorsi che avevo fatto, sono andato avanti un po' a inerzia, comunque facendo attività ogni singolo giorno, ma a livello di, diciamo, estetica non è che avevo una motivazione, un obiettivo. E avere un obiettivo invece mi sta rimettendo in gioco e dire voglio tornare a essere tot peso, con tot grammi, eccetera. E quindi con un professionista ho iniziato. E quindi mi sto dedicando anche alla mia solita skin care, alla mia routine di beauty, sto lavorando sulle piccole cose, sto imparando il giapponese, sto anche lavorando sul fare in modo che i social siano pronti quando vado là. E quindi migliorando anche i social. Continuo anche col mio libro nel momento in cui sto leggendo adesso, sì, anche delle cose, dei piccoli esercizi in giapponese, ma anche questo libro The One Thing, che mi sta aiutando molto con le priorità e anche comunque continuamente imparando varie cose, come ad esempio migliorando la routine del mio sonno riesco finalmente ad alzarmi prima, a dormire meglio e quindi a fare più cose e darmi delle priorità, come dice il libro, anche per fare le cose fatte meglio. Quindi sto iniziando veramente a riavere un po' una motivazione perché è vero che avevo tanti obiettivi a lungo termine, ma avere degli obiettivi un po' più a breve e medio termine mi sta motivando a rimettermi in gioco in certi campi che avevo lasciato un po' non lì, ma diciamo un po' stagnanti perché continuavano ma non c'era mai qualcosa di pazzesco. Infatti quello che vi consiglio è proprio di mettervi anche a voi degli obiettivi a piccolo, medio, lungo termine, quindi obiettivi che vi motivano ad andare avanti, che vi eccitano. Qual è quella cosa che facendola tutto il resto diventa o più facile o non necessario? È una domanda da porsi in ogni ambito della propria vita perché ti aiuta proprio a staccare da tutte le cavolate e concentrarsi su quella cosa che invece è veramente importante, l'80% che crea, cioè il 20% che crea l'80% dei risultati, il principio di Pareto. E quindi sto continuando con quello, sono molto contento, come farò con la mia moto? Niente, lascerò qua, spenderò l'assicurazione. Tra l'altro oggi sono andato a sistemarla, tutta pronta, tutta pulita, la moto dal meccanico, tutto nuovo, lubrificata, sistemata, olio, frizione, motore. E in più abbiamo anche aggiunto degli adesivi, cose che mi piacevano, il portachiavi Honda, ma anche dei piccoli razers, dei piccoli rialzi per il manubrio per renderla leggermente più comoda, io che sono 1,87. Quindi sono contento. E per il lavoro come farò? Per il lavoro dovrò portarmi dei profumi là, dovrò fare in qualche modo per tre mesi, intanto dovrò organizzarmi per portarmi qualcosa, per continuare a fare contenuti là, quindi mi porterò sicuramente alla videocamera e cercherò di fare contenuti là, con i brand con cui collaboro mi porto i prodotti. E magari inizierò anche a fare qualche video, a tornare a fare dei video in inglese come una volta. Quindi magari iniziare da una rubrica, una volta al mese, magari o una volta a settimana o come preferite, con un video in inglese. Fatemi sapere se vi può piacere ovviamente con il sottotitolo in italiano e magari switchare sempre più all'internazionale. Fatemi sapere se è una cosa che può far piacere. Ecco qua ragazzi, quindi questo è un po' un aggiornamento. Per qualsiasi cosa scrivetemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!